la regina di venere fin del 1958 sempre nell'epoca d'oro di hollywood un film particolare diciamo minore sempre considerando il panorama delle grandi produzioni hollywoodiane qui la protagonista è beh io la considero sempre l'istrionica grande zazagabor questa attrice che è ricordata più anche se ha fatto film importanti con registi importanti diciamo è più ricordata per la sua vita sentimentale perché è stata sposata nove volte ecco non so se detiene il record di hollywood un record di ho per quanto riguarda unioni matrimoni io pensavo appartenesse a liz taylor che è stata sposata allora otto volte però due volte con richard barton comunque diciamo si equivalgono sono due campionesse per quanto riguarda questa 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 speciale competizione zazagabor è come si capisce anche dal nome era di origine ungherese e approdata ad hollywood dopo diverse peripezie è stata usata in diversi film è stata usata è stata diretta anche da dal grande houston e però appunto diciamo l'è mancato sempre un qualcosa per fare diventare proprio una star una star di quelle che conosciamo meli morrow audrey apple e altre rimane una donna appariscente una donna particolare una donna che ha vissuto e morta credo all'età di cento anni anche male poverina gli era stata amputata una gamba sofferente aveva anche la demenza senile questo dispiace no quando una persona arriva a questo punto e come questo film in questo film è particolare un po fantasioso parla di astronauti appunto partono dalla terra e vanno sul pianeta venere ecco pianeta venere e qui si adattano subito alle condizioni ambientali di venere e scoprono che questo pianeta è abitato da donne stupende da una società matriarcale con a capo una regina appunto impersonata dalla gabor e per diversi motivi vengono condannati a morte però vengono poi salvati da alcune di queste amazzoni ecco e vengono salvati comunque non vi dico tutto perché a me non piace mai fare uno spoiler io ho pensato che questo desiderio dell'uomo di trovare andare in mondi perduti sperduti di trovare mondi governati da donne bellissimi da mazzo tipo amazzoni tipo donne statuarie forti ma che desiderano sempre alla fine innamorarsi anche loro è un tema ripetuto in tanti altri film mi viene in mente a questo proposito anche il colonnello gheddafi che quando era ancora vivo quando andava in giro il suo le sue guardie del corpo quelle più strette erano delle delle donne guerriero dell'amazzoni veramente che erano terribili esperte le hanno salvato più volte la vita esperte nel genere di combattimento certo lui che era sospettoso su tutto se le ha prese se si è fatto contornare non da uomo ma da queste donne dovrebbero essere veramente eccessi superiori nell'arte dei combattimenti e tutto il resto quindi questo fascino della donna forte della donna forte che però riesce essere sempre essere presa dall'amore l'amore che è più forte di questa donna forte e infatti alcune si innamorano anche degli astronauti e c'è tutto quindi un susseguirsi di queste storie come come considerare questo film questo film è da considerare come una scoperta come una chicca come qualcosa di divertente come qualcosa di insolito come qualcosa una produzione di quei tempi a margine di grandi produzioni hollywoodiane a margine di grandissime stelle c'erano questi film minori minori che parlavano di altre storie un po inventate film fantastici film storici film di fantascienza ecco che hanno che però hanno avuto una loro valenza una loro importanza sempre per quanto riguarda la storia del cinema quindi guardate questo pianeta questa regina di venere su questo pianeta dominato dalle donne fra l'altro se potete vedere donne bellissime anche attrici bellissime e quindi è un film per gli uomini da vedere e da sognare da sognare appunto di approdare su uno di questi pianeti e di essere in balia di questo esercito di belle donne comunque al di là di là degli scherzi è un altro film da guardare per un cinefilo questi film poco conosciuti sono ancora più importanti perché ampliano i nostri schemi mentali ampliano la nostra conoscenza non basta sapere tutto di via col vento bisogna sapere tutto di tutto ecco per uno che ama il cinema vuole scoprire sempre cose nuove allora adentriamoci con la fantasia su questo pianeta di venere alla scoperta di queste misteriose bellezze buona visione e quindi Grazie.